Tutti gli appassionati dell'aeronautica questo fine settimana si ritroveranno nell'area com di Corso Italia da Cireale per la seconda edizione dell'Airexpo, la grande kermesse dedicata a chi ama il volo nelle sue varie sfaccettature, da quella professionale con la presenza degli stand di aeronautica e marina militare a quella dilettantistica con spazi dedicati a chi vuole prendere il brevetto oppure a chi apprezza discipline come ad esempio il parapendio. E nel corso di questa tre giorni dedicata al volo non mancheranno i momenti e gli spazi dedicati ai più giovani. A inaugurare il secondo Airexpo il colonnello pilota Vincenzo Sicuso, comandante del 41esimo stormo antisomme di Sigonella. L'aeronautica militare è vicina ad ogni manifestazione, possibilità, opportunità per far sì che la cultura aeronautica cresca. in maniera data da far vedere che anche una passione come l'aviazione generale e l'aeronautica militare nel particolare, pur essendo di nicchia, sono a disposizione per tutti, raggiungibile da tutti e di fatto non è altro che la genialità dell'uomo fatta a mezzo. Siamo orgogliosi noi di essere i portavoce di questa cultura e poi a quanto vedo anche passione condivisa con gli altri.